Studio 7 TV e Sport Picciano Game presentano l'intervista di Pietro Ospite della puntata Benvenuti a una puntata abbiamo ospite una band, in questo caso Zatana e abbiamo ospite un membro della band, Zatana A questo punto la domanda sorge spontanea Prima cosa, come mai Zatana o Zatana? E soprattutto, come scrivereste oggi la band a chi non vi conosce e soprattutto per chi vi incontra per la prima volta? Allora, innanzitutto ciao a tutti, grazie a Pietro per averci invitato Allora, il nome è nato tanto tempo fa, suonavo in una band avevo, suonavo a petto nudo e quindi mi ero disegnato con un rossetto, una Z sopra il petto e da lì è nato il nome Zatana, che è rimasto, che mi è rimasto La band invece si chiama Zatana, con l'accento sulla terza A questo perché comunque collaborando con altri musicisti, con la cantante Lucy che purtroppo non è con noi oggi qua abbiamo deciso di utilizzare questo nome anche perché comunque le canzoni le abbiamo scritte insieme alla fine dell'opera in realtà c'è da dire che le bozze erano mie quindi tempo fa gli ho fatto ascoltare i brani che fanno parte dell'album che stiamo realizzando e da lì abbiamo deciso di chiamarci Zatana in sostanza E a questo punto parliamo intanto dell'ultimo singolo l'assenza quando nasce questo brano, da cosa tra ispirazione Sì, allora, l'assenza è nata qualche anno fa ed è rimasto lì nel cassetto è rimasta, anche perché non avevo intenzione di pubblicarla poi diciamo che sono stato spinto un po' perché mi piaceva il brano tutti i brani che ho scritto insomma per questo mio progetto ipotetico che mi ero fatto poi dopo ho detto no, lo metto via intanto lo metto nel cassetto poi seguo altri progetti poi dopo nel Covid ho riaperto questo cassetto e ho fatto ascoltare la canzone a Lucy lei mi è piaciuto parecchio e quindi mi ha detto sì dai collaboriamo insieme e facciamo questo viaggio insieme allora abbiamo registrato abbiamo registrato insomma la prima canzone dell'album che è appunto l'assenza l'assenza è un brano pop noir come piace definirlo a me e prende i suoni diciamo non moderni come hai magari potuto ascoltare ha dei suoni indie anni 90 più o meno senza base sotto proprio come l'avevo scritta non musica sincera almeno spero che vi colpisca perché sono suoni di chitarra suoni di basso suoni di batteria vera quindi nulla di artificiale e senza auto-tune senza erano è venuto fuori naturalmente questo sound è venuto fuori naturalmente esatto e ricordo proprio gli anni dell'indie tipo gli after hour quella musica tipo i Marlene Kunz insomma quel genere lì io sono molto contento onestamente Dando ricordiamo perché ci sta ascoltando che in realtà noi ti vediamo tramite un'immagine perché tu indossi una maschera quindi ti abbiamo frizzato in quel momento che è particolare ma a questo punto in una strada silenziosa o in una strada vuota e poi c'è questo silenzio che in realtà a volte parla di queste citazioni in questo brano che poi poi va è una un crescendo di questa cosa che poi si manifesta nello stesso video poi con la cantante che si vede apertamente e il e voi band che indossate delle maschere a questo punto le maschere sono poi scelte oppure non nascono casualmente no le ho scelte io personalmente allora la scelta di indossare delle maschere cosa che fanno comunicamente comunque molte band noi la nostra motivazione di base vogliamo dare il focus sulla canzone non siamo importanti noi ma è importante è importante la canzone quello che immagini che comunque questa canzone le canzoni il progetto vuole dare solo la cantante solo Lucy si mostra molto scoperto questo perché è il portavoce della canzone stessa quindi lei deve essere per forza doveva essere per forza a viso scoperto sarebbe stato facile comunque dare una maschera anche a lei però non sarebbe stato corretto ci sarebbe stato troppo una luna di mistero cosa che non volevamo dare quindi era giusto che lei fosse la portavoce del messaggio e della canzone in sostanza e invece come descrivi la realizzazione di questo video che poi è un suo genere cattivante ma molto interessante allora il video è stato curato nel dettaglio l'ho curato nel dettaglio fin dall'inizio e grazie a Stefano Poletti che è un regista molto bravo è stato molto bravo a riuscire a montare comunque a riprendere con le immagini il significato della canzone diciamo che la canzone essendo come detto una canzone un po' scura sia come suono che come testo viene raffigurato bene appunto dal video nel video quando lo vedrete ci sarà vedrete appunto delle maschere vedrete delle immagini comunque in un ambiente abbastanza scuro con dei demoni che vengono fuori si presentano dei mostri e poi è stato bellissimo per noi realizzare lo smembramento di Lucy questo per dimostrare al massimo diciamo la sofferenza di quando i tuoi propri demoni che hai dentro che ti ritornano fuori alla fine dell'opera ti distruggono ti spezzano in sostanza poi dopo ti ricomponi cerchi di ricomporti ma alla fine dell'opera magari ti puoi ricomporre per un po' ma dopo ti spezzano comunque è un discorso di un loop continuo di vincita di perdita insomma e questa è la rappresentazione del video e sono contento che Stefano sia riuscito a riprendere nel dettaglio quello che siamo riusciti a mettere insieme in sostanza l'ha fatto molto bene sono veramente soddisfatto nella realizzazione delle canzoni nasce prima un loop un riff o un qualche piccola nota oppure nasce prima le parole oppure possiamo dire che accidentalmente per sbaglio possono nascere insieme no diciamo che viene fatta un vecchio viene utilizzato viene utilizzato non viene utilizzato niente cioè le canzoni vengono scritte sono state scritte semplicemente con chitarra e voce in sostanza ho preso la chitarra e ho cominciato a cantare direttamente il ritornello e da lì ho detto beh cavolo mi sembra mi sembra buono questo ritornello e poi come posso continuare quindi le note sono sosseguite insieme una dietro l'altra è stata una cosa abbastanza naturale e poi mi sono stupito nella velocità con cui è stata scritta la canzone e comunque la prima la prima diciamo versione della canzone che ho registrato da solo in casa con un piccolo registratore è comunque rimasta fedele rimasta sempre così la struttura adesso è registrata bene chiaramente allora poi con la mia voce che purtroppo non riesce ad arrivare alle note di Giorgia e quindi e quindi insomma abbiamo sono veramente soddisfatto insomma è nata così la canzone è nata in poco tempo in maniera semplice senza l'utilizzo di computer o computer di loop insomma in sostanza chitarra e voce vecchio stile insomma e invece nella stesura dei testi perci essere un po' più prolisso come il classico italiano dove deve essere molto riscritti oppure come nell'inglese dove si è un po' più sintetici un po' più ermetici esatto allora inizialmente la canzone era in inglese era ma dopo dopodiché mi sono detto no non può funzionare in inglese io vorrei fare qualcosa perché l'inglese diventa più è più facile da cantare più melodico se devi fare una canzone in italiano insomma l'utilizzo delle parole deve essere sì semplice ma comunque è un po' più costruita la cosa e devo dire che sono riuscito a raggiungere l'obiettivo era proprio diciamo sono riuscito a trasferire il significato della canzone originale in italiano in sostanza in inglese più o meno il significato era quello e invece la sensazione che hai provato nel momento in cui tutto il Black Band si è posto davanti al videoclip visto parliamo del videoclip un attimo e l'avete visto il risultato finale qual è la tua sensazione poi vedendo le loro facce qual è stata poi la tua sensazione aver visto insieme il risultato finale di questo video allora diciamo che loro sono stati molto gentili perché si sono prestati a uno storyboard che avevo scritto loro essendo musicisti e trovandosi ad affare degli attori a fare degli attori insomma non è stato facile in sostanza però mi hanno seguito la cosa mi ha veramente colpito perché comunque non è da tutti indossare delle maschere oppure fare delle cose che magari va contro la propria personalità tu conosci i musicisti sono tutte insomma persone come donne oppure no io questo non lo faccio perché altrimenti sminuisce la mia personalità in realtà no devo dire che tutti quanti hanno creduto nel nel progetto e quindi quindi mi hanno dato carta bianca e questo per me è stato molto importante è stato importante perché non volevo compromessi non volevo persone che mi dicessero no questo non funziona questo lascia stare perché succede così quando sei in una band bisogna sentire il parere di tutti e poi diventa difficile riuscire a prendere una decisione essere obiettivi diventa diventa difficile in questa maniera qua è stata ci sono rimasti tutti quanti molto contenti anche se poi c'erano delle scene e ho detto no no lo smembramento diventa come lo vuoi fare come ci penso io ragazzi la faccio ci ho lavorato parecchio in garage da me per poter fare realizzare questo famoso smembramento anche il demone che si vede ho dovuto costruire questa grossa maschera poi in cartapesta però comunque mi c'è voluto del tempo mi c'è voluto se ci fosse stato qualcun altro magari mi avrebbe tirato indietro e ho detto no questa è una stupidata lascia stare invece grazie ho avuto questa visione e tutti i ragazzi il regista compreso perché quando gli ho mostrato lo storyboard mi ha detto ma questo come lo realizziamo ci penso io tu cerca di fare ok bene bene quindi alla fine anche lui è rimasto contentissimo è rimasto e a questo punto oltre a promuovere questo disco c'è sicuramente la produzione di altri dischi altre canzoni e parliamo poi eventualmente partire dal vivo oppure il progetto rimane soltanto in rete o comunque con un disco allora il mio scopo è questo è necessario avere un pubblico ok allora siamo partiti adesso questo siamo a livello zero zero no abbiamo fatto qualcosina qualche riscontro positivo lo stiamo ottenendo però chiaramente prima di fare dei live prima di far sentire altre canzoni dobbiamo capire se abbiamo una ricezione perché comunque per me essendo questi brani molto intimi per me sono parte di me quindi prima di voglio capire se può essere può essere accettato da un pubblico o meno questi miei sentimenti oppure no se sì io penso che comunque se le cose sono sincere funzionano se le cose sono vere funzionano io penso che questo brano sia vero e sincero e che possa colpire comunque il cuore degli ascoltatori dell'immaginario soprattutto e questa è la cosa bella è stato fatto con questo scopo comunque lo scopo non era quello di accattivarsi il pubblico magari la canzone poteva essere perché avendo un ritornello molto potente molto orecchiabile avrei potuto lavorare molto su quello ripeterlo più volte rendendolo una canzone diciamo più fruibile all'ascolto magari di molti ma in realtà è rimasta esattamente così in maniera che forse più d'ascolto una persona la deve ascoltare perché la vuole ascoltare perché sente che c'è magari qualcosa sotto ripeto io poi dico come ti dicevo prima sono sono di parte io avendola scritta avendola essendomi preso cura del video chiaramente vedo solamente della grande positività però chiaramente sta l'ascoltatore decidere è lui che decide se la cosa è buona oppure no in sostanza ando ricordando che chi ci ascolta vede un'immagine di un pezzo di una maschera di un animale prima cosa domanda questa maschera che stai indossando è ferma lì ti abbiamo frizzato quindi ti abbiamo congelato nello spazio nel tempo come mai questo personaggio questo tipo di animale allora questo animale è perché praticamente non c'è una motivazione diciamo particolare per questo animale che è il lupo in sostanza il lupo fa parte delle favole il lupo fa parte insomma di un immaginario di nell'immaginario di si fiabesco quindi ho associato le cose insieme ho trovato questa maschera in giro e mi sono detto io il personaggio cioè è giusto avere questo personaggio in questo contesto quindi è stata abbastanza semplice la scelta diciamo che l'ho incontrato casualmente quindi è nato così non c'era dietro altri significati esoterici oppure magari o altrimenti o altre cose tipo feticismo non c'entra assolutamente niente su questo è stata proprio una scelta no mia per poter creare questo definitivamente questo personaggio insomma è necessario avere questo essere questo personaggio per poter suonare queste queste canzoni in sostanza in questo caso nel video tu sei il lupo cattivo e lei è capucetto rosso il vestito da rosso quindi effettivamente è così no no il cattivo è il demone quello che la che la abbraccia che balla con 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 lei quello è la parte cattiva però questo è il demone che abbiamo tutti quanti che puoi avere te che possono avere tutti gli ascoltatori ce l'abbiamo tutti comunque bene o male che ti tornano fuori che ti ti lasciano stare poi dopo vanno via poi ritornano citando il film di franghese giugno lupo lula castello luli a questo punto a questo punto noi ti ringraziamo per essere stato ospite perché ripetiamo sei frizzato nel tempo e nello spazio quindi in questi istanti vediamo solo la tua foto e chi ti ascolta dice ma questo parla con una foto sì noi parliamo con una foto quindi a questo punto ci mancano due cose fondamentali dove i vostri indirizzi dove poterli raggiungere ascoltarvi e i saluti finali ok perfetto allora bisogna ricordare anche i nomi della band assolutamente allora noi siamo gli Zatana ci trovate su tutti su tutti i social come Instagram e Facebook sotto Zatana Band ci trovate senza accento Zatana Band tutto dritto così anche su YouTube state connessi con noi ragazzi perché se riusciamo siete prime che ci seguite perché siamo appena partiti speriamo di riuscire a crescere a crescere sarebbe fantastico davvero ci siamo dimenticati di non dire i nomi o pseudonymi della band assolutamente allora io sono Dei Zatana la cantante la mia musa ispiratrice come l'ho chiamata io si chiama Lucy Fuge e gli altri componenti non hanno nome se non vengono definiti come gli Z crew questo perché potrei cambiarli sono sempre gli stessi perché sono i miei fedeli musicisti però quando ho bisogno magari di altre sonorità come i fiati oppure i percorsionisti dopo mi avvalgo anche di altri musicisti sicuramente che ho già nel mio crew onestamente anche perché le altre canzoni che adesso non svelo niente comunque ci saranno anche dei fiati in sostanza rimarrà sempre comunque il nostro genere sempre questo pop noir dark insomma sempre con queste tinte anche se ripeto c'è positività c'è sempre una luce in fondo alle nostre canzoni in sostanza grazie grazie a tutti grazie Pietro per avermi avuto qua e parlare di questo progetto bellissimo Studio 7 TV e Sport Picciano Game hanno presentato l'intervista di Pietro ospite della puntata a grazie a tutti grazie a tutti Grazie.